Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 6 giugno 2022, staremo insieme per tutta la settimana per la rassegna stampa di Fanno TV, questa mattina il sole è sorto alle 5.23, tramonterà alle 20.49 così dice l'almanacco e vediamo cosa dice il libro dei santi, oggi non si festeggia un santo ma è una ricorrenza, si tratta di ricordare Maria come madre della Chiesa, è una memoria questa istituita da Papa Francesco recentemente l'11 febbraio del 2018 a ricordo di quanto istituito a suo tempo da Paolo VI nel Concilio Vaticano II che dichiarò Maria Santissima come appunto madre della Chiesa, essendo madre di Gesù Maria è anche madre dei fedeli che con Cristo formano un unico corpo mistico, così aveva detto il Papa. E vediamo ora le previsioni del tempo, vediamo come il tempo si mantiene buono su tutte le marche, vediamo la grafica, eccola, una giornata stabile e calda ma con cieli a tratti ancora offuscati dal passaggio di una nuvolosità di tipo medio alta talora estesa, abbiamo visto anche ieri come il tempo è stato un po' incerto per quanto riguarda la copertura del cielo. Sulle coste i venti spireranno da una direzione di nord e nord-est, sull'interno invece da ovest sud-ovest. Ed ora apriamo il giornale per quanto riguarda il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Vediamo come l'apertura è dedicata ad un avvenimento che si è svolto ieri ed è l'Assemblea della Cooperativa di Falcineto, una delle istituzioni più rappresentative del mondo agricolo locale. Vediamo il titolo, grano duro fino a 50 euro al quintale ma decidono accordi internazionali. Sì c'è stata una grande variazione di prezzi per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, le coltivazioni dei cereali in modo particolare appunto determinati da quanto sta accadendo in Ucraina. E ieri è stata celebrata la festa della mietitura a Falcineto dopo che anno scorso ovviamente questo avvenimento, questa ricorrenza non è stata possibile a realizzarsi. Insieme all'Assemblea dei Soci della Cooperativa di Falcineto vediamo qui in questa fotografia un'immagine dell'esposizione dei trattori, quelli vecchi, quelli più moderni. Insomma come l'agricoltura locale è cambiata nel corso dei tempi, specialmente in modo particolare dal dopoguerra, quando è stata costituita la cooperativa. E chi l'ha costituita? Un manipolo di persone lungimiranti, attenti alla cooperazione, alla socialità come Nicola May. Nicola May è stato un po' il personaggio che è stato ricordato in modo particolare nell'Assemblea dei Soci di ieri a Falcineto, perché è stato colui che ha dato impulso alla cooperativa, ha aggregato tanti agricoltori, ha così incentivato la produzione e l'ha cambiata nel metodo e nelle finalità. Finalità non solo economiche ma anche sociali. Infatti ha fatto molto perché a Falcineto nascesse un asilo e soprattutto si costituisse quello spaccio che non solo è stato un servizio per tutte le famiglie ma è stato anche un centro di aggregazione per giovani e anziani dal punto di vista sociale. E ieri hanno ricordato Nicola May diversi personaggi, oltre al presidente Claudio May, il presidente della cooperativa, il direttore Francesco May, anche il sindaco Massimo Seri, poi l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il vice sindaco Cristian Fanesi e i sindaci passati come Francesco Baldarelli e Cesare Carnaroli. Insomma un ricordo che ha dato un nuovo impulso alla cooperativa che quest'anno chiude il bilancio in salute, ha un po' richianato i debiti degli anni scorsi e ha chiuso appunto con un avanzo di circa 36 mila euro. E veniamo ora alle altre notizie. Il Corriere Adriatico ci informa su un incidente che si è verificato in Via Roma, un tamponamento tra due auto coinvolte sei persone. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'intersezione con Via della Bazzia, uno dei punti critici della viabilità fanese contraddistinto da uno stop per chi percorre Via Roma, uno stop che non sempre viene osservato perché Via Roma, lo sapete, è un rettilineo e quindi la gente non si adatta al fatto di dare la precedenza a chi svolta in Via della Bazzia. Ebbene questa volta è accaduto un incidente, un tamponamento coinvolte sei persone, due passeggeri hanno riportato lesioni e sono finite al pronto soccorso. All'interno degli abitacoli c'erano anche dei bambini che per fortuna non hanno riportato conseguenze. E poi veniamo alle manifestazioni di ieri. Ebbene ieri a Fano si è svolta la seconda giornata del Carnevalino, così è stato denominato il Carnevale per i bambini e per le famiglie appunto perché è dedicato ai più piccoli. L'irresistibile fascino di Harry Potter, bambini in fila per tuffarsi nella magia. Ebbene Piazza 20 Settembre è stata trasformata in un mondo magico, quello di Harry Potter, con tutti gli episodi della saga dei film. I bambini hanno ritrovato i loro beniamini, i loro personaggi. Harry Potter, il mago buono Silente, Ermione, una bellissima ragazza, e poi in compagnia di Ron Wesley. Infine Lord Voldemort, il cattivo della situazione. Ma poi nel percorso hanno incontrato anche Piton, maestro di pozioni. Oppure Koeman, anche lei esperta negli intrugli. Insomma tutti i personaggi degli appassionati di questa saga che risalendo a vent'anni fa non appassiona soltanto i bambini, ma insomma è rimasto nel cuore anche di molti adulti. Ebbene un mini Carnevale, poi vedremo come intitola il resto del Carlino questo avvenimento, che però ha appassionato molti e molte famiglie e appassionato anche gli adulti. Veniamo agli altri titoli. La refezione scolastica. Fano si conferma al vertice della prestigiosa classifica stilata da Food Cider. Ebbene la refezione scolastica di Fano si conferma, lo ha fatto anche l'anno scorso, tra le realtà più avanzate a livello nazionale. Per il secondo anno consecutivo alla proposta dei servizi educativi del Comune è stata ritenuta la migliore in assoluto dall'indagine di Food Insider, che è l'osservatorio sulle mense scolastiche, la quale considera tra i suoi criteri di giudizio diversi elementi, soprattutto la salubrità degli alimenti e la loro provenienza a chilometri contenuti dal luogo della somministrazione. Problemi di viabilità ancora in via trave a Roma. L'arteria, secondo l'Udc, resta molto pericolosa. Il ristringimento attuato dall'amministrazione comunale per ridurre la velocità dei veicoli rimane un errore, secondo il partito di opposizione. E poi vediamo come un'altra associazione di stimolo, questa è un'associazione ambientalista, l'Upus in Fabola, di stimolo all'amministrazione comunale, invita appunto il Sindaco e la Giunta a rivedere il regolamento di verde urbano, che è stato aggiornato ma rimane al palo, insomma non viene applicato. E questa è una delle mancanze che rende, secondo appunto gli ambientalisti, la città di Fano a rischio. Ed ora passiamo a terre roveresche. A fondopagina del Corriere vediamo che inizia la settimana cruciale per quanto riguarda le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e della Giunta, che vede contrapposte due liste. Abbiamo la lista numero uno, intitolata Condividiamo, che vede candidato il Sindaco Sauro Marcucci, per il quale, dice, c'è un forte bisogno di rigenerare le nostre realtà paesane, di creare prossimità, ovvero più servizi nei municipi, per essere attenti alle richieste della gente. Questa, insomma, è un po' molto semplificata il programma elettorale del Sindaco, che poi entra nei particolari e proprio prevede i metodi e le finalità del suo programma. La lista numero due invece si chiama Uniti per unire terre roveresche. Ed è composta dagli uscenti, Antonio Sebastianelli, alla carica di primo cittadino, dagli assessori Lucia Borsini, Hortensia Sbrozzi, Claudio Pasegnani, Cristian Andreani, dai consiglieri, alcuni consiglieri appunto in carica per quanto riguarda l'amministrazione comunale. A Sebastianelli piace sottolineare che il programma amministrativo si inserisce nella visione, a medio e lungo termine, di quello presentato cinque anni fa. Quindi è un proseguimento del lavoro che si sta facendo. Dunque, terre roveresche, è un momento topico per quanto riguarda il cambio o la conferma dell'amministrazione. Andiamo a Marotta. Andiamo a Marotta, dove vediamo che è un provvedimento che riguarda la viabilità, rende quest'ultima più sicura, almeno così si spera. Con un dosso è uno stop, Piazza Roma è più sicura. È un deterrente per la velocità dei mezzi e il segnale è posto nella rotatoria. Oltre al dosso è stato imposto uno stop. Uno stop che speriamo che venga osservato. Un cambio di passo nella viabilità in zona mare, in Piazza Roma, un tempo la cosiddetta Piazza della Fontana e che per effetto del nuovo sottopasso, che appunto valica la ferrovia, si sta trasformando a tutti gli effetti nella principale porta di ingresso alla spiaggia litorale di Marotta per tutti coloro che raggiungono il mare a piedi o in bicicletta. Ebbene, in questo caso, in passato ci sono stati diversi incidenti in questo punto problematico della viabilità marottese con danneggiamenti alla rotatoria di Piazza Roma. In questo modo, ha detto l'assessore alla viabilità, Raffaele Tinti, abbiamo voluto rafforzare la sicurezza e la prevenzione del traffico cittadino. Insomma, un modo per cercare di evitare più incidenti. Allagamenti, progetti e lavori per scongiurarli. Il sindaco e gli assessori incontrano i cittadini questa sera alle ore 21 su questo tema molto sensibile a Marotta. All'annosa problematica degli allagamenti appunto della cittadina, l'amministrazione comunale è pronta a rispondere con una serie rilevante di interventi che diano risposte alle attese dei cittadini. Questa serie sarà presentata appunto questa sera alle ore 21 in un incontro con i cittadini. Un incontro che si verificherà, che è stato programmato, alle ore 21 nella sala parrocchiale della Chiesa di San Giovanni. Quindi chi è interessato a questo tema può partecipare a questo confronto con l'amministrazione comunale. Diamo un'occhiata anche alla pagina di Senigallia. Vediamo dove la cronaca, la fada padrone, l'ultima moda dei teppisti ragazzini. Insomma, non c'è limite all'intraprendenza, alle proteste, alla dissocialità delle giovani generazioni. Ebbene, questa volta hanno gettato giù dal ponte biciclette e carrelli della spesa, tanto così per divertirsi. È l'ultima moda dei teppisti ragazzini. Bici e carrelli lanciati giù da un ponte. Sono controlli fuori dalla discoteca. E poi è stata trovata anche la droga da parte dei carabinieri. Se i giovani sono nei guai, tolleranza zero sull'alcol. Così hanno appunto annunciato le forze dell'ordine. Interventi dei carabinieri per droga e alcol nel lungo ponte del 2 giugno. Il consuntivo rileva che una bicicletta, risultata poi rubata al porto, è stata ritrovata ieri mattina dentro il Misa. È stata lanciata dal ponte Zavatti, insieme ad alcuni carrelli della spesa provenienti da diversi supermercati. Quindi hanno fatto un po' il giro della città. I carabinieri poi hanno incrementato i controlli sul territorio, soprattutto nel comune di Senigallia. E in particolare si sono concentrati sulla repressione delle condotte legate all'uso di stupefacenti e all'abuso di alcol, che poi genera questi comportamenti trasgressivi. Vediamo anche un articolo che riguarda Iesi. Madre e figlia massacrate di botte, preso uno studente, si era sballato e il diciottenne fermato per l'aggressione aveva festeggiato a pranzo alla fine della scuola abusando di alcol. Insomma è andato via di testa. Ha un nome e un volto l'uomo che ha massacrato di botte madre e figlia sabato pomeriggio in via Monte Lattiero. Si tratta di uno studente di 18 anni, straniero, identificato dai carabinieri di Iesi nella tarda serata di sabato. Si trova in uno stato di fermo, di indiziato di dilitto. La sua posizione è al vaglio dell'APM e della Procura di Ancona, che entro 24 ore dovrebbe sciogliere la riserva sul provvedimento da adottare. E poi vediamo anche le pagine regionali del Corriere Adriatico, dove si parla di sanità. Si parla di sanità per quanto riguarda un tema molto sentito dai cittadini, ovvero le liste di attesa, visite ed interventi in crescita. Le aziende ospedaliere hanno presentato i loro piani operativi per recuperare i ritardi causati dal Covid. Sapete che nel periodo più intenso della pandemia l'attenzione appunto dei sanitari si è rivolta in modo particolare per la cura e l'assistenza di questo genere di patologia. Altre malattie sono state un po' accantonate, non dico trascurate, e quindi adesso ci cerca di recuperare i tempi. E i ritardi accumunati in due anni hanno fatto allungare non di poco le liste di attesa, soprattutto per quel che concerne le visite specialistiche e le prestazioni in programma. Ebbene, vediamo che cosa accade a Marche Nord, lo vediamo qui in questa tabella. Eccola. Marche Nord, 1.428.520 euro saranno stanziati per il recupero delle liste di attesa, di cui 514.800 euro per quanto riguarda i ricoveri e 913.720 euro saranno messi a disposizione per finanziare la specialistica ambulatoriale. E poi qui vediamo altri dati che riguardano appunto sia l'ospedale di Pesaro che quello di Torrette di Ancona. Un altro problema è quello della pesca. Quello della pesca, che vediamo come le diverse marinerie stanno assumendo atteggiamenti diversi. Pesca si spacca il fronte, Civitanova non molla e continua lo sciopero. Invece a San Benedetto e Dancona si torna in mare. La linea dura della marineria che valuterà se riprendere l'attività domani è quella appunto di Civitanova. Insomma, il problema non è stato risolto e i pescatori si trovano sempre in acque agitate. Tempi e costi aumentati nel progetto di raddoppio della linea Orte-Falconara. È una valutazione questa di Lorenzo Catraro, ex dirigente delle ferrovie ed esperto appunto in tematica. Il raddoppio della Orte-Falconara, che è una delle linee più problematiche, più lente delle ferrovie italiane, che costituisce un problema del tempo che ci vuole per raggiungere Roma appunto dalle località marchigiane, è uno dei più sentiti da chi è costretto a fare la spola tra le due località. Ebbene, dice Lorenzo Catraro, con il passare del tempo i costi sono aumentati e i finanziamenti per realizzare quattro binari, così come servirebbero per rendere efficiente questa linea ferroviaria, i finanziamenti devono essere incrementati. Villa Marina fa subito il pieno nel parcheggio per bagnanti e turisti. Ebbene, è una zona vicino al mare, è un parcheggio libero, non è a pagamento, quindi pensate voi se questa grande area non sia stata subito affollata fin dal primo giorno di apertura. Eccolo qui, vediamo le foto molto significative. Il parcheggio di Villa Marina pieno nel fine settimana dopo essere stato aperto. Ebbene, però protesta anche il mondo di Levante, perché se quello di Ponente è servito da questa bella struttura, quello di Levante ancora soffre di parcheggio. E lo evidenzia il conte Nanio Marcucci Pinoli, che dice che la zona sud, diciamo così, di Viale Trieste, è priva di posti auto. E di questo ne avrebbe sofferto anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che proprio sabato, nel tardo pomeriggio, mentre era in corso la presentazione di un libro all'Alexander, che sarebbe l'hotel appunto del conte Pinoli, viene aggirato a vuoto per trovare un posto macchina libero senza trovarlo. E poi ancora, una baby gang circonda due quattordicenni per depredarli dei monopattini. Non solo Senigallia, ma anche Pesaro è in preda appunto della devianza di certi gruppi giovanili. I ragazzini sono stati rapinati l'altra sera in Viale Trieste. Il padre dice, mio figlio è terrorizzato, nuaio a questa situazione, non la posso accettare. Pensate, due ragazzini di quattordici anni che hanno il monopattino, vengono così circondati e assaliti da, non dico coetani, ma quelli che sono stati appunto gli assalitori, avevano due anni, due o tre anni in più, quindi insomma la fascia di età è quella. Ebbene, aggrediti, scaraventati a terra, rapinati dei loro monopattini. Le vittime, due ragazzini, due amici di quattordici anni, i rapinatori non sarebbero molto più grandi. La polizia è impegnata a risalire all'identità dei responsabili di questi misfatti. E poi si ripropone, per quanto riguarda la stagione turistica, il solito contrasto tra chi vuole dormire e chi vuole divertirsi. Fa arrabbiare la movida fracassoni, hotel e residenti chiamano la polizia. Ci sono quelli che intemperanti non accettano che magari sotto l'albergo ci sia del chiasso e quindi da Ponente a Levante, a Pesaro, un fine settimana all'insegna di ricorrenti, segnalazioni per schiamazzi e musica alta. Ci vorrebbe un po' di criterio anche da chi fa musica, insomma, di non spararla ai decibel, alle stelle. E poi vediamo anche la pagina di Urbino. Ci sono dei provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al regolamento di polizia urbana che ha imposto ulteriori strette al cosiddetto quotidiano notturno. ovviamente via l'alcol, le bottiglie di vetro, non spargere riso, coriandoli per sporcare le vie. Si vuole un riso contenuto magari durante i matrimoni, ma poi il giornale dice ma chi è che stabilisce il modico lancio di riso durante come si fa a capire se è modico oppure non è modico. E questo è un punto interrogativo che rimane così, rimane insoluto. Ed ora diamo un'occhiata anche alle poche pagine del resto del carlino per quanto riguarda il lunedì. Sappiamo che tutti i giornali lunedì hanno un'edizione un po' contenuta. Ovviamente si parla di carnevale per quanto riguarda Fano. Mini carnevale, un maxi divertimento. L'appuntamento dedicato ai più piccoli fa il pieno in piazza 20 Settembre. E vediamo anche in questo caso chi ha vinto il concorso dei mini carri. Ha vinto un ragazzo, si tratta di Matteo Busetti, ha 12 anni e ha vinto con il carro In Amor vince chi fugge. E poi a pari merito tutti gli altri concorrenti. In totale erano sei mini carri che hanno partecipato a questo interessante, grazioso concorso ideato da Paolo Delbianco, il noto fotografo della città. La vernice della ciclabile fa mimetizzare la buca. Lei ci infila un piede e rovina a terra. Ebbene, questa è una disavventura accaduta ad una signora che passeggiava a Fano con la figlia. Con la figlia è una nipotina di due anni. Si tratta di Anna Maria Montesi. Ebbene, passeggiando nel parcheggio su Viale Adriatico di fronte al ristorante Pesce Azzurro, cosa ha fatto? Il camminamento era un po' così mistificato dal vernice azzurra. Non ha visto una buca, dipinta anche essa di azzurro, ci ha messo un piede e si è fatta male, insomma. È caduta. Ha infilato il piede in una grossa buca profonda almeno 10 cm. Almeno riparate le buche quando dipingete itinerari pedonali appunto per renderli più evidenti. Un euro al giorno per la raccolta funghi. Il consigliere Rossi replica a Biancani. Falso, dice che disigentivi il turismo. Ebbene, Rossi, per sostenere la sua iniziativa, cioè far pagare un euro a chi raccoglie funghi nell'entroterra evidenzia quello che accade in altre regioni come Toscana e Trentino che hanno introdotto da tempo questa misura in Toscana dove si paga un giornaliero di ben 15 euro. c'è una processione di fungaioli, ha detto Rossi, contrastando appunto le dichiarazioni di Biancani. Scaraventati giù dal monopattino e rapinati. Paura per due ragazzini. È successo sabato sera. Abbiamo visto come questo episodio è stato già riportato dal Corriere ma lo evidenzia anche in modo importante il resto del Carlino che evidenzia anche come le notti fracassoni destino le proteste degli albergatori. Ora basta, andiamo per avvocato. Per avvocati, hanno detto appunto i proprietari delle strutture ricettive. E poi un infortunio si accascia durante la corsa in panoramica. Si tratta di un 39enne che partecipava alla mezza maratona sul San Bartolo è stato trasferito d'urgenza a Fano. Per fortuna sta bene. Altri malori anche per il caldo. Ieri veramente la temperatura era molto alta e chi si affatica salendo sulla panoramica concorrendo ad una gara ad una gara, una mezza maratona insomma la fatica si sente maggiormente. Un 39enne originario di fuori città che lavora in caserma a Pesaro si è sentito male e si è accasciato tra l'ansia, la preoccupazione dei suoi compagni di gara. È stato trasferito con una ambulanza alla Santa Croce di Fano. Si temeva che avesse un ictus invece la situazione è stata ridimensionata. E con questo possiamo concludere la nostra rassegna stampa non prima però di avere dato un'occhiata anche allo sport. E vediamo come Russo questa sera, il patron appunto del Fano Calcio questa sera svelerà il futuro della società. dirà come si procede l'area tecnica è nel Merino. Probabilmente verranno annunciati sostanziali cambiamenti. Oggi alle 17.30 parla il presidente questo è l'articolo, ecco parla il presidente Mario Alessandro Russo all'Alma. È la prima conferenza stampa dopo la fine della stagione conclusa, sì come noto, con la salvezza. E questa era veramente l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno alle ore 20.30 con occhio alla notizia su Fano TV. Grazie per l'ascolto. A risentirci. A risentirci. Grazie a tutti.